dove abbiamo ricordato tutti gli avvocati, oggi c'è questa bellissima manifestazione, sono vent'anni che non conosco molto la città, mi sto battendo per cercare di arrivare alla pacificazione di condivisione in questa città, che è una cosa abbastanza complicata, perché la condivisione sicuramente è una cosa difficile, però ne ho portato più a tre presidenti, siamo venuti da altri due presidenti, che è stata un'emozione importante, ripeto la ragogna di quel momento del 18 settembre, che è ancora in questa unità, siamo a Sarga e a Sarga, l'abbiamo messa in tutta una comunità ebraica due anni fa, in occasione dell'ottantesimo, insomma credo che stiamo andando avanti, e questa è la cosa più importante, mi fa un'ora che oggi ricordiamo che le persone abbiamo messo le pietre in ciango, che sicuramente sono una cosa forse la più importante che abbiamo fatto, perché quando uno arriva sarebbe conto che è una della seconda sinagoga d'Europa, una delle più grandi d'Europa, per cui sicuramente parliamo di una comunità ebraica importante, che in quegli anni purtroppo ha subito le cose incredibili, non potete raccontare la rigiera, di quello che è stata, sapete che raccontavo ieri che ero a Padova, ecco ho detto, ma quali sono i nuovi a Padova, deve trami del Novecento, e non c'è, quando giri per la nostra città, arrivi via via via, che hanno i piccati, non vicino, ne hanno usciliati, la cosa viene, non usciliati, e poi, e la risiera, chi più ne ha più le metta, e questa è il Novecento di una città incredibile, che proprio a fortuna sta crescendo, e sta arrivando un po' la condivisione che dobbiamo vivere in pazza dobbiamo stare insieme finalmente la parola insieme di Piazza Monza e insieme affichiamo raggiungere il loro ritmo grazie e buona giornata